Gentili telespettatori, buona giornata. Il capo della Lega Matteo Salvini rivendica l'ingresso nel governo Draghi. Dice noi siamo responsabili, siamo entrati nel governo per salvare l'Italia. Senza la Lega, tasse e ussoli. È vero questo? Molto probabilmente sì. Non so però se Draghi senza la Lega poi avrebbe dato retta, aletta, con tasse e ussoli. Non lo so. Però sicuramente l'intento di Salvini era proprio quello, ed è quello, di entrare nel governo e contrastare la sinistra. Noi non lo sapremo mai se il governo senza Salvini avrebbe poi fatto tasse e ussoli. Non lo sapremo mai. Però quello che siamo sicuri è che con l'entrata della Lega nel governo è stato dato un freno all'egemonia sinistra. E al segretario Dem, Democratico, Ricoletta, il segretario Democratico, dice hai il nervo scoperto. Eh sì, la reazione di Letta contro Salvini, quando Salvini gli ha detto che fa il palo di Conte, la sua reazione immediata di Letta è data dal fatto che proprio ha beccato nel segno Salvini, gli ha detto proprio quello che lui stava facendo. E poi torna sul Green Pass che dice applicato oggi significa escludere dalla vita 30 milioni di italiani. Salvini è a Cervia, Ravenna, la mattina in spiaggia e il pomeriggio, pomeriggio sera, piazza e politica. Torna al Papete di Milano Marittima. Qualcuno mi ha chiesto, ma il Papete non è una discoteca? Anche, è anche uno stabilimento balneare. Poi voi domani volete aprire un cinema e chiamarlo Papete, nessuno ve lo impedisce. Non c'è il copyright su questo nome, no? Avete visto quante pizzerie Bella Napoli si chiamano? Dice, ma possono chiamarsi tutte Bella Napoli? Sì, non c'è un copyright su pizzeria Bella Napoli. Vabbè. Sono i giorni dedicati a mio figlio, dice il capo della Lega. Sono qui in veste di papà, al Papete. Papà, Papete. Ma a me interessa cosa la gente mi viene a dire, anche sotto l'ombrellone. Il leader della Lega però non si sottrae agli impegni politici. E dice, per noi la garanzia è Mario Draghi. Dal nostro punto di vista il governo non rischia. C'è tempo anche poi per parlare di Enrico Beruschi, no, Enrico Letta. Dice, beh, la scintilla nasce quando io dico che Conte fa il suo lavoro di sabotatore Eletta gli fa da palo. Eletta si è arrabbiato, manco gli avesse detto chissà che cosa. E così la replica del segretario di PD si è fatta subito pungente. Dice, ma tu sei abituato a parlare così ai tuoi assessori, facendogli intendere. E Salvini commenta, hai il nervo scoperto. Se uno reagisce così all'improvviso vuol dire che è stato toccato nel segno. Il capo della Lega la sera si sposta nella vicina Cervia dove a piazza dei Salinari si svolge la festa politica della Lega Romagna. Romagna mia, Romagna. Salvini incassa il forfè della demma Alessia Morani. Non viene, sopravviverò. A me sembrava strano che questa piddina che in passato ne viene addetta di tutti i colori a Salvini. Vi ricordate, gli diceva al Ministero lui non lavora, non fa niente, sempre in giro. E poi me la invitano alla festa della Lega con l'intento di metterla in difficoltà parlando di immigrazione. Questa intelligentemente ha detto, c'ho degli impegni, c'ho delle cose da fare, vedo cose, parlo con gente. E così non si è presentata. E Salvini dice, sopravviverò. Passa a salutare i militanti che lavorano negli stand gastronomici. Poi ha l'idea di spostare a 100.000 euro la soglia di reddito a cui applicare la flat tax sulle partite IVA. Poi parlando è in onda sulla sette e sferra un affondo contro Bruno Tabacci. E dice, la nomina della Fornero non ne sapeva niente Draghi, non ne sapeva niente Salvini, ma è opera del signor Tabacci. Se avesse dignità si dimetterebbe, visto che non ne azzecca una. Io non credo che questo Tabacci non ne azzecchi una. Quello che fanno i politici, soprattutto quelli della Prima Repubblica, come Tabacci, è tutto studiato. Non è che chiama la Fornero per caso. Non è che chiama Arcuri per caso. Il figlio non viene assunto per caso. Quello che lavora con lui non viene assunto per caso all'Agenzia Spaziale Italiana. Ricordatevi che in politica le coincidenze, le casualità, sono piccolissime, quasi non esistono. Tutto quello che fanno i politici, soprattutto quelli di una volta, non quelli per caso di oggi, quelli che dal balcone dicono di aver sconfitto la povertà, ma non quelli, non i finti politici, ma i politici quelli di una volta, tipo Tabacci, sono quelli che non fanno niente per caso. Niente. Non regalano niente a nessuno. Tutto ha un tornaconto. Io do a te e tu dai a me. Non so se vi ricordate Benigni in quel film che dice al ministro Ministro, io le do la mia assicurazione e lei mi dà la sua assicurazione. Era tutto un equivoco, no? Vi ricordate quando parla col ministro, no? Lui aveva una finta assicurazione di invalidità, no? Io le do la mia assicurazione e lei mi dà la sua assicurazione. Siamo d'accordo, eh? Io di qua e lei di là, eh? Io di qua e lei... Ecco, insomma, quella gente lì, chiamiamola così, quella gente lì non fa niente per caso. Bene, Salvini alle 21 sale sul palco e parla con Bruno Vespa, chiamato lì per intervistare il capo supremo della Lega. La prima domanda è sul ritorno al papete con un aneddoto storico sulla decisione di eleggere Milano Marittima a luogo di elezione vacanziera. Beh, Salvini di Milano va in vacanza a Milano Marittima, no? Non ci avevate mai pensato. No, beh, ma Milano Marittima, lo stabilimento del papete è di un euro parlamentare della Lega, quindi diciamo che è uno stabilimento, come possiamo dire, di famiglia, no? Di famiglia politica, ecco. Lui dice, Salvini, da padre divorziato qualche anno fa disse a mio figlio, scegliamo una località accogliente dove trascorrere una settimana insieme. Decidemmo per Milano Marittima. In questa scelta c'è solo l'amore di un papà per suo figlio e l'amore per una terra splendida. accoglie con un affetto la telefonata di Silvio Berlusconi che poi lo saluta con grazie Silvio, no? Gli dice, grazie Silvio, forza Milan, no? Un po' come a battantuono quando si sveglia la mattina per andare allo stadio, no? Forza Milan, che il padre, no? Lo s'arrabbia, ve lo ricordate nel film? Eccezionalo veramente. Poi si sposta sui vaccini, parla di vaccini, Salvini, dubbi sul Green Pass, dice applicato oggi significa escludere 30 milioni, poi dice i 5 Stelle hanno minacciato le dimissioni per 10 volte, non sarebbe un grande danno se se ne andassero a quel paese, non dice a quel paese, ma che se ritornassero al loro paese. Beh, dice, sono orgogliosa di essermi presa le mie responsabilità entrando nel governo Draghi. Non è una passeggiata di salute. Ma senza la Lega che cosa starebbe approvando il governo? Gli ussoli, di DL Zan, patrimoniale, revisioni degli estimi catastali come hanno provato a fare? La Lega è l'argine democratico rispetto a questo chant. Ho anche chiesto a Draghi un incontro con la Lama Morgese sugli sbarchi. Vedremo. È dura, insomma, ma sono orgoglioso di essermi assunto questa responsabilità. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.